Io credo che è un errore parlare di colpa, non è la cultura della colpa, dobbiamo parlare di... lui è un giocatore di massimo livello, che ha avuto un'infortunio e che ritorna piano piano. Sono molto soddisfatto del suo lavoro e per qualche partita lui può fare la differenza e lui sa che deve fare la differenza, ma ha tutta la fiducia mia, lo appoggio ogni volta perché lo vedo allenare e so che è un giocatore che può fare la differenza e l'ha fatto prima all'inizio del campionato e deve farla ancora alla fine del campionato.